Lo spettacolo Weekend Dance continua in esclusiva all'intervista a Gigi D'Alessio e la presentazione su Ultimo Disco Chiaro. Guardate il servizio, Weekend Dance e Gigi D'Alessio. Non c'è più, è un passato da bruciare, torna ad essere di nuovo ancora tu. Io non voglio amare, sono libertà e sono chiusa a chiave e ci resta... A Napoli tutto bene, Gigi? Ah, è quella la cosa che mi interessa di più. Anche perché oggi è venuto i 17, quindi tocchiamo ferro, non posso fare... Tocchiamo ferro, venuto i 17. Il 17 è sempre portato bene. Porta sempre bene. Sì, è il 17esimo album, chiaro, quindi mi sembra che tutto stia andando bene. Io sono contento, tu sei contento. Io contentissimo perché noi da Napoli con Weekend Dance e Radio Marti, ormai sei nel nostro cuore. Radio mia, non è Radio Marti. Quindi se a Retiello ci guardo. Grande Paolone, ma c'entra? Entra nella telecamera se a Retiello non è. Ascolta, una bella collaborazione con Lorena perché questa sera l'unico momento dance su Larison porterà i 100 ballerini per una versione remix di Fargetta, quindi finalmente un po' di movimento. Stasera ci divertiamo tantissimo, anche per me è la prima esperienza, però sono convinto che sarà un bel divertimento, ma di grande professionalità. Le coreografie le ha curate Luca Tommassini, anche le grafiche, quindi sono tutti i ballerini, i campioni del mondo. Tu sai che io sono negato, può ballare, però stasera andrò proprio per divertirmi. E soprattutto si divertiranno quelli dell'Ariso, ma soprattutto i tanti che ci guardano da tutto il mondo. Questa coppia strana definita così, ma che piace finalmente. Si sono un po' ricreduti, gli alleani hanno ascoltato bene. Al primo ascolto solitamente è sempre difficile, tu mi insegni, ma evidentemente si sono ricreduti. Ma sai che c'è io, per quanto riguarda le giurie di Moscopico non sono stato mai premiato nella vita. A me mi ha sempre premiato il pubblico e che non finirò mai di ringraziare. A tutto il pubblico, tutto, tutto. E per me già è una cosa importante, perché per me il vero giudice è sempre stato il pubblico. Poi, vedi, ci sono tante cose, a volte tante persone che sono vicini dentro ma lontani fuori. E poi ci sono tante persone lontani dentro e vicini fuori. Sei stato fantastico. Non mi sono incartato. Quindi io e Loredana siamo un po' come la Lambretta e l'Harley Davidson. Io sono la Lambretta e Loredana e l'Harley Davidson. Guarda a casa, la Lambretta è proprio all'ingresso del Palafiori. Hai visto? Capisci a me. Capisco. Senti, a parte il festival, ottobre comincia European Tour, detto bene, Europa. Yes, yes. Novembre, dicembre Italia. Marzo World Tour 2013. Siamo Canada, Stati Uniti e tutto Sud America perché esce un album che si chiama Primera Fila in 22 paesi del Sud America. Quindi per vederti in Italia bisognerà aspettare... Novembre e dicembre. Novembre e dicembre. Toccherai anche Napoli, no? Come si fanno toccare Napoli? Gigi, una cosa importante, ma il disco non me l'ha regalato, il ct dov'è? Lo voglio far vedere ai nostri amici da casa. Lo acquistare? No, no, no. Sicuramente è una cosa malamente in una facissa. Attacca a tutti. Però se tu me la dai che porta... Ah! Questa adesso te lo faccio vedere. Aspetta. Andiamo. Andiamo. Eh, la devi dedicare, lo devi fermare. Gli anni sordi non mi fa male. No, no, no. Porta bene così. Ecco, così, a verlo. A Dino piacente. A Dino, il più vecchio giovane del mondo. Morante non è nessuno. Lo so, glielo dico dopo. Ah, è qua, c'ha 58 anni. Non è 52. 52. Tu mi chiami il vecchio vestito dal bambino. Esatto, il vecchio vestito dal bambino. Gigi, io ti ringrazio, naturalmente, anche i radioscoltatori di Radio Marte e i telespettatori di Weekend Dance. Un tuo saluto, in bocca al lupo. Vi faccio forte, siete grandi, vi voglio bene, siete la mia vita e i miei trionfi sono sempre dedicati alla mia città. A voi vi voglio un mondo di bene, a te ti dico caro Dino, saluto Massorota. Grazie. Che non manca mai. Ciao. We can dance. We can dance.